L'Aquila abbraccia le squadre di ciclismo ucraina in fuga dalla guerra. Ieri sera l'arrivo degli atleti in aeroporto a Fiumicino e poi all'Aquila, dove al centro servizi volontariato sono state espletate le procedure burocratiche, riconoscimento da parte della Questura e tamponi effettuati prima di accompagnarli negli alloggi del progetto case messi a disposizione dal Comune. L'assessore regionale allo sport Guido Liris e il sindaco Pierluigi Biondi hanno atteso gli atleti a Roma, accompagnati poi in serata nel capoluogo da un boss tua. Quella di oggi è soltanto una prova di solidarietà. Ci sarà poi una dimostrazione molto più corposa che la regione Abruzzo e la città dell'Aquila fornirà nei confronti dello sport, della vita e in particolar modo delle atlete afghane che stanno fuggendo dalla guerra. Avremo la capacità di accogliere atleti cicliste afghane che dovranno arrivare qui in Abruzzo, saranno ospitate in Abruzzo nella città dell'Aquila e avranno la possibilità, grazie all'interlocuzione con la regione Abruzzo, con l'assessorato regionale allo sport, di poter continuare la loro vita e di poter continuare la loro passione. Un gruppo composto da 24 persone, tra atleti delle nazionali di ciclismo junior e standard 23 maschile e femminile, e accompagnatori, bloccati in Turchia nel momento di invasione del loro paese. I ragazzi sono arrivati in Italia con le loro tute giallo-blu, con i volti stanchi e tristi, preoccupazione e storie da raccontare, ma un grazie enorme all'Aquila e all'Italia da parte loro. Hanno gli occhi lucidi, parlano di collegamenti telefonici quasi impossibili, di famiglie di cui da giorni non si hanno notizie dell'incertezza sul futuro, anche perché non sanno quando potranno rivedere le famiglie. C'è chi racconta del paese appena bombardato, dei familiari sottoterra nascosti per salvarsi la vita, racconti drammatici impossibili da comprendere, ma la città c'è e vuole fare la propria parte per alleviare le sofferenze enormi di questa popolazione. In questo momento sono i suoi genitori, i suoi amici e i colleghi che forno in bici, sono tutti nel bunker sotto i palazzi nascosti, perché nel suo paese Cernighe stanno bombardando e quindi sono senza luce, senza acqua, quindi la situazione è un po' difficile. Per ora sono vivi e sani. Spera che finisca prima possibile, e che viva Ukraina. Spera che finisca prima possibile,